l'indagine della vita di alessandro perissinotto prima puntata 210 bar 210 bar tanti ne segna il manometro vuol dire che la bombola è piena come è logico che sia visto che siamo ancora dentro al diving center di pella 210 bar significano più o meno un'ora di immersione a 18 metri e a questa profondità che abbiamo scelto io e silvio di scendere per la nostra prima uscita della stagione non importa quante immersione hai registrato sul tuo libretto non importa da quanti anni vai giù con le bombole dopo un inverno di inattività è sempre bene non esagerare e fare un giro rilassante di quelli che servono soprattutto per verificare l'attrezzatura un inverno di inattività come siamo invecchiati c'è stato un tempo in cui io e il silvio c'eravamo comprati la muta stagna per buttarci nel lago anche in pieno gennaio a dire il vero allo scuba shop di omegna mi hanno detto che silvio di muta stagna se ne è comprata una nuova un paio di mesi fa chissà perché non me lo ha detto e io mi sono sempre dimenticato di chiedergli cosa se ne faccia visto che come me aspetta aprile per iniziare la stagione quel pirla di un silvio come recitavano cocchi e renato e io pirla come lui sempre insieme noi attratti irresistibilmente da quello che si nascondeva sotto la superficie di queste acque che ci hanno visto crescere di queste acque che ci hanno visto favoleggiare di misteriosi bauli inabissati tra orta e l'isola di san giuglio persino nei miei primi anni da carabiniere quando mi avevano sbattuto in un paesino dell'appennino pistoiese a ogni licenza non avevo che due obiettivi riabbracciare lucia e fare un'immersione con silvio e non necessariamente in quest'ordine fortuna che poi ho ottenuto il trasferimento a orta altrimenti credo che avrei lasciato l'arma dopo il manometro controllo gli erogatori funzionano sia quello grigio sia quello giallo un po' d'aria nel gav si 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 gonfia e ci mancarebbe altro è nuovo quello vecchio aveva iniziato a perdere da tutte le parti e quando il giubbotto comincia a sgonfiarsi da solo è bene buttarlo via altrimenti una volta l'altra rischi di rimanere sotto anche la torcia elettrica è nuova non che oggi ci serva ma proprio per quello voglio provarle in condizioni di sicurezza tutto a posto sia per me che per silvio carichiamo l'equipaggiamento sul gommone accendiamo lo stanco motore yamaha e facciamo rotta verso la punta settentrionale dell'isola tranquilli godendoci il sole che ci scalda la pelle attraverso il neoprene della muta silvio avrebbe preferito un'uscita a corto raggio direttamente dal pontile di pella ma io ho una specie di rituale la prima discesa della stagione deve essere in quel punto lì così gli ho detto facciamo pure un giro davanti a pella ma poi io mi trovo un altro compagno di immersione al diving e vado dove voglio io alla fine si è convinto però non scendiamo sotto i 18 metri ha precisato io ha sentito brutti scherzi fa la vecchiaia una volta era lui il più temerario adesso a forza di stare dietro il bancone del suo bar è diventato un pantoffolaio forse la muta stagna se l'è comprata per fingere con se stesso di essere ancora quello di un tempo o forse sono state le preoccupazioni esaurirlo io glielo dicevo di non spendere troppo per rinnovare il suo locale ma lui voleva fare le cose in grande voleva trasformarlo in un lounge bar per turisti risultato un monte di debiti e la stessa clientela di prima sono persino arrivato a pensare che si fosse inguaiato con gli strozzini però alla fine mi sembra che sia uscito dal periodo buio è tornato a spendere è tornato a sorridere anche il vecchio sfiancato fuori bordo è tornato a ruggire e l'attraversato dura pochissimo spengo il motore calo l'ancora allacciamo la cintura con i pesi poi ci aiutiamo l'un l'altro a indossare il guard con sopra la bombola pinne calzate piedi incrociati erogatori in bocca 3 2 1 entriamo in acqua di schiena e riemergiamo immediatamente tenuti a galla dal giubbotto gonfiabile un ultimo segnale di ok poi le mani si chiudono a pugno con il pollice verso il basso si scende sgonfiamo il guard il mondo intorno diventa azzurro e poi blu mentre una fila di bollicine dall'erogatore sale verso l'alto ordinatamente